Cannabis Cannabis La Casellati non la vuole La Casellati non la vuole Il movimento pentastellato Voleva che lo Stato si interessasse Almeno della Cannabis Light La Cannabis leggera, capito? La Cannabis leggera Spiegando che ci sarebbe stato anche un piccolo introito Per l'erario dello Stato Invece la Casellati ha detto no Per cui da parte dei Cirque Stelle Si dice che la Casellati Si deve dimettere Perché la Casellati non vuole bene alla Cannabis Non vuole bene alla Cannabis, capito? Ma io, Serafino Massoni ormai È da sempre che vado dicendo Che non sono la Cannabis Ma tutte le droghe, tutte le droghe Devono essere vendute in tabaccheria Con l'etichetta del monopolio di Stato Come si fa con le sigarette E come si fa con gli alcolici In fin di conti anche come si fa Con i giochi d'azzardo Con i giochi d'azzardo Capito? Con i giochi d'azzardo Lo Stato incassa tanti quattrini E così con le sigarette E così con gli alcolici Invece di farli incassare alla malavita i quattrini Facciamoli incassare allo Stato Beh, insomma, io Questa notizia Questa notizia grandiosa Questa notizia grandiosa Ve la lascio come l'indere assunto di questo video Che i pentastrellati Un pentastrellato tal dei tali Ha detto che la Casellati Che era presidentessa del Senato Si deve dimettere Si deve dimettere Perché con la sua opposizione Alla Cannabis Light Non vuole bene all'erario dello Stato Capito? All'erario dello Stato Per cui io consiglio Alla Casellati Di leggere questa mia opera La stirpe del serpente Ora la trovate in tutte le librerie terrestri Ma soprattutto nelle librerie celesti Aeree Online Le librerie online Va bene? Va bene? Presidentessa del Senato Casellati Vada subito in libreria E compri almeno una copia di questa mia opera Capito? E poi la porti in Senato E la faccia conoscere Ai suoi colleghi senatori Ah, poi Poi nell'articolo Che io ho letto E che sto ora commentando Si parla pure Del silenzio assordante Il silenzio assordante Di Dario Franceschini Il mio carissimo amico Dario Franceschini Ministro della cultura Capito? Ministro della cultura Dario Franceschini Ministro della cultura Va bene, va bene Dai Io ho fatto queste mie considerazioni Sulla Cannabis Ed ora voi fate liberazione Minte le vostre Va bene A tutti Tanti cari saluti Da Serafino Massoni Minte le vostre